ehi la amici della tv oggi parliamo di un argomento che sta facendo molto rumore nel mondo dello spettacolo avete sentito parlare del ritiro di gaia dallo show amici si avete capito bene gaia gozzi la talentuosa cantante che tutti amiamo ha deciso di tirarsi indietro e chi meglio di maria de filippi la regina dei reality show per far luce su questa situazione maria ha deciso di intervenire e noi siamo qui per raccontarvi tutto quindi mettetevi comodi e preparatevi a scoprire cosa sta succedendo nel backstage di amici gaia gozzi una delle stelle più luminose di amici ha sorpreso tutti con la sua decisione di ritirarsi dallo show la cantante che ha conquistato il pubblico con la sua voce unica il suo stile inconfondibile ha deciso di fare un passo indietro e per chi si chiede il perché beh sembra che ci sia delle ragioni personali dietro questa decisione ma non preoccupatevi non si tratta di nulla di grave gaia sta bene ma ha bisogno di un po di tempo per se stessa e noi come fan dobbiamo rispettare la sua decisione maria de filippi la regina indiscussa dei reality show italiani non ha potuto fare a meno di intervenire sulla questione in un'intervista recente maria ha espresso il suo sostegno a gaia e ha spiegato che capisce perfettamente la sua decisione in questo lavoro a volte si ha bisogno di fare una pausa e gaia ha deciso di fare proprio questo ha detto maria e ha aggiunto che nonostante il ritiro di gaia lo show deve andare avanti quindi amici non preoccupatevi amici continuerà a farci sognare con nuovi talenti e nuove emozioni gaia tornerà a farci sognare con la sua musica per quanto riguarda gaia non sappiamo ancora quando ritornerà sul palco ma una cosa è certa i fan non vedono l'ora di rivederla in azione nel frattempo gaia ha ringraziato tutti per il sostegno e l'amore che ha ricevuto e ha assicurato che tornerà più forte di prima quindi ragazzi non perdiamo la speranza gaia tornerà a farci sognare con la sua musica e noi come sempre saremo qui per raccontarvi tutto quindi rimanete sintonizzati e continuate a seguire amici per tutte le ultime novità